Arrivano all'Aquila gli internazionali d'Italia di patinaggio a rotelle e corsa su strada, ma anche il quinto Memorial Angelo Onorato, campionato nazionale del Centro Sportivo Educativo Nazionale e tappa Challenger Centro Italia. Il 26 e il 27 maggio sul circuito stradale è ricavato lungo il viale Corrado IV, ricompreso tra la rotatoria di via Piccinini e la rotatoria di via Beato Cesilio, per una lunghezza totale di circa 1250 metri, dalle 7 e mezza alle 18 e 30 del giorno 27 maggio. È un evento di grande impatto sportivo, di interesse sociale, di spettacolo di qualità e dagli altissimi contenuti tecnici. L'organizzazione è stata affidata al CPGA dalla Federazione Patinaggio Nazionale, confermata anche dal Comitato Internazionale Corsa. Inoltre, essendo questo evento abbinato anche al Campionato Nazionale del Centro Sportivo Educativo Nazionale, è stato autorizzato dal settore tecnico nazionale e ratificato dal Comitato Regionale di questo ente di promozione sportiva. Sarà presente anche la pluricampionessa del mondo Francesca Lollobrigida, componente della Nazionale Olimpica di Ghiaccio del 2018. Circa 300 gli iscritti provenienti da tutta Italia, da Padova a Trapani e quattro nazioni rappresentate, Polonia, Portogallo, Spagna e Croazia. Siamo alla terza edizione di questo evento che si svolge su Viale Corrado IV e nel parterre di Piazza D'Armi. Quest'anno, al contrario dell'anno scorso, non si sarà il campionato del mondo di maratona. Lo scenario è come quello dell'anno passato, abbiamo avuto una grossa mano dall'amministrazione comunale, chiuderemo il percorso che va tra le due rotatorie del Viato Cisiglio fino a quella di via Ugo Piccinini. La manifestazione è attualmente ancora aperta come registrazione. È un grande merito a Mario Miconi e alla sua organizzazione sportiva quella di aver organizzato per la terza volta questo evento internazionale all'Aquila. Questo consente di mantenere viva l'attenzione della cittadinanza e dell'intera regione su una disciplina sportiva che ha portato in passato grandi risultati alla nostra città. Per l'assessore Piccinini si tratta di un momento molto importante. Il Comune, pur avendo voluto fare di più, ha dato comunque il suo supporto. Devo dire che quest'anno diamo una mano, ma limitatamente perché purtroppo ci siamo trovati in delle situazioni per le quali non riusciamo a dare l'apporto che avremmo voluto. Ovviamente come Comune garantiamo sempre il supporto dei nostri operai, di tutto ciò che occorre per la manifestazione e siamo felici di poter essere teatro di questa manifestazione internazionale dove diversi atleti provenienti da svariate parti d'Europa e non solo parteciperanno a questa competizione.